Ciao, benvenuto, io sono Claudio Negro, un personal trainer, esperto in allenamento a corpo libero, un sistema di allenamento che si sta facendo conoscere sempre più sotto il nome di Callisthenics o Street Workout, che trova proprio in questi contesti all'aperto, nei parchi pubblici, il contesto ideale per essere messo in pratica. E se anche tu vuoi allenarti a corpo libero per migliorare la tua forma fisica, ma non sai bene come organizzare i tuoi allenamenti, non sai bene come scegliere gli esercizi, beh, ti invito a seguirmi sui miei canali social perché periodicamente metto sempre a disposizione tanto materiale informativo per aiutare le persone meno esperte ad iniziare questa forma di allenamento. Puoi andare sul mio sito internet che vedi comparire qua sotto, lì ho messo a disposizione ben due mini ebook, due guide gratuite con tanti programmi di allenamento, uno più per un ebook, più per principianti, l'altro più per intermedi. Oppure lascia un mi piace sulla mia pagina Facebook o iscriviti al mio canale YouTube, anche lì potrai rimanere aggiornato su, come dire, l'ultimo materiale che metto a disposizione periodicamente. Ok? Bene, adesso ti invito a rimanere con me perché nella seconda parte del video ho montato insieme un collage di esercizi dove ti dimostro come nel Callisthenics sia possibile partire da esercizi molto facili fino ad arrivare ad esercizi molto difficili che ti conducono attraverso un percorso che ti permette di migliorare nel tempo la tua forma fisica e diventare allo stesso tempo molto forte e performante, ottenendo così un benessere veramente totale. Bene, adesso ti lascio ai video, agli esercizi, buona visione e mi raccomando vai a iscriverti ai miei canali. Ciao e ci vediamo in un prossimo video, ciao! Ciao! Sì I'm a sailor pink And I lost my leg Climbing up the top seals I lost my leg I'll ship it out to Boston 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 I'll ship it out to Boston